Ciao a tutti ragazzi, Alberto Urso qui al centro Sicilia, grazie, grazie di tutto, siete grandi, grazie per la forza che mi date costantemente, grazie per tutto quello che avete fatto di rilanno su questa settimana, ma ti giuro un po' di ringaggiare, dedicato a Calmetto, 1, 2, 3… Sicilia lotta designare… I partner! Mini, ma perché varie…. Ok… Grazie a tutti